Il consigliere provinciale della Lega Nord Maurizio Fugatti oggi è ospite di A2x2. È l'occasione, grazie di essere con noi, innanzitutto, è l'occasione anche per fare chiarezza sul mondo del latte, il mondo del latte trentino che soffre, un mondo del latte trentino che appare poco negli scaffali, dice il consigliere Fugatti, a differenza di prodotti che arrivano invece dall'Alto Adige. E l'errore dove sta? Gli errori dove sono stati fatti e chi li ha fatti? Noi siamo andati a farci un giro per i supermercati trentini e abbiamo preso come esempio lo yogurt, che è una fetta importante comunque del mercato, non tutto, ma è una fetta importante. Neanche in quelli della cooperazione trentina troviamo lo yogurt fatto dalla latte trento in bella evidenza sui banchi dei negozi. In bella evidenza sui banchi dei negozi troviamo gli yogurt altoatesini, fatti da tre società, non una, tre. Se facciano una grande, sono più buoni? No, secondo me sono più buoni quelli di Trento, io compro quelli di Trento, tanto per dire, ma è una questione di gusti, secondo me sono più buoni. Sono tre tipi di yogurt da Bolzano, Merano, Bolzano, la Mila e Vipiteno. Uno, in fondo nell'angolo a destra o a sinistra, ben nascosto, il latte trento. Già lì ci viene da chiedere, ma scusa, ma perché non siamo in grado di veicolare meglio il nostro prodotto? In alcuni supermercati trentini non c'è neanche lo yogurt della latte trento, in alcuni supermercati trentini non c'è. Ci sono solo quelli bolzanini, poi qualcosa di greco, eccetera. Quindi lì c'è sicuramente una mancanza di programmazione, perché se oggi sentiamo dire, gli elevatori prendono 30 centesimi, dobbiamo puntare su, e quindi non riescono a tenere in piedi le aziende perché il prezzo di produzione è maggiore, dobbiamo puntare sul marchio, sulla salvaguardia del prodotto territoriale trentino, dobbiamo farlo prima, eventualmente. Adesso va bene farlo, ma forse bisognava pensarci prima. A Trento c'è un'azienda, la Trentina Latte, di Rovere della Luna, che è un'azienda che produce yogurt. La cooperazione trentina qualche anno fa si poteva fare una specie di polo, di polo dello yogurt, chiamiamolo così. Non c'è stata la possibilità, perché probabilmente la cooperazione trentina non ha voluto. La Trentina Latte è stata acquisita da stranieri. Adesso la Trentina Latte produce per altri soggetti. Se noi andiamo a Verona, Milano, alle stazioni, noi troviamo lo yogurt dell'Alto Adige. Noi di Trento non troviamo niente. Se noi andiamo a Bolzano, lo yogurt di Trento non lo troviamo. Allora, non è che là sono più bravi e noi siamo meno bravi. Probabilmente là sono stati più intelligenti nel tempo a sviluppare un marchio, a proporre un marchio, stiamo parlando di yogurt, ma sarà così su tante altre cose, che poi riesce a essere presenti. Cosa si può fare? Io credo che adesso la situazione con la fine del regime delle quote latte a livello nazionale sia difficilmente tamponabile con questioni che si parla di marketing, vendiamo il Trentino, consumiamo il Trentino. Giusto farlo, però non credo si possa andare lontani. La questione latte scoppierà a livello nazionale. Io credo che i trattori torneranno nelle piazze, torneranno negli aeroporti, torneranno nelle strade. Quindi è un problema non solo Trentino, ma che riguarda anche Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. Noi non dovrebbe riguardarci come riguarda meno l'autoagile, non siamo stati bravi come loro, questo va detto, chi ha gestito finora non è stato bravo come loro. Quindi torneranno sulle piazze i trattori, io spero di no, però se non c'è un intervento forte del governo nazionale e in questo caso del governo provinciale di Trento, torneranno i trattori in piazza perché la situazione non è sostenibile. Io credo che o ci sarà un intervento pubblico o si fa una specie di statalizzazione del mercato del latte, è brutto dirlo ma è così, è brutto dirlo ma è così. Una provincializzazione parliamo. Qui in Trentino potremmo dire provincializzazione, a livello nazionale una statalizzazione o altrimenti le stalle delle montagne chiuderanno. Saremo invasi da prodotti che arrivano. È già così, è già così e la situazione sta sfuggendo di mano. Vediamo cosa chiedono gli ascoltatori. Io alla politica cosa chiedo? È di scendere un po' più in piazza, di medesimarsi un po' di più con la gioventù più che altro, con i cittadini, non soltanto quelli che ormai hanno una professione o non ce l'hanno a 30 anni però, di vedere anche quelli che stanno entrando nel mondo del lavoro. Allora Fugatti, politica più in piazza e soprattutto occasioni di lavoro per il mondo giovane? La disoccupazione giovanile in Trentino è un problema, dobbiamo anche qui purtroppo fare il confronto con l'Alto Age. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile che supera il 20%, a Bolzano è la metà. Perché? Perché nel tempo a Bolzano, nel tempo indietro, hanno fatto un collegamento tra il mondo della scuola, è il mondo del lavoro, per cui mentre uno andava a scuola andava anche a fare il cosiddetto apprendistato, il cosiddetto chirurgico. Questo modello duale si sta proponendo anche in Trentino? Dico fortunatamente, però lo stiamo proponendo con qualche lustro di ritardo, però lo si sta proponendo e francamente devo dire che questo è una cosa positiva. Abbiamo dormito 10-15 anni, però speriamo che questo... Dovano essere in forma, visto che abbiamo dormito 15 anni, dovranno essere belli freschi, riposati. Sì, dovranno essere belli freschi, riposati. Discusi la battuta. Però il dato è che in Alto Adige, per fortuna loro, la disoccupazione giovanile è la metà di quella trentina a termini percentuali e qui siamo a livelli veneti e lombardi. Però noi siamo una provincia autonoma, dovremmo avere maggiori possibilità e maggiori risorse per gestire... Scendere in piazza di più la politica? Questo sicuramente, dopodiché nel nostro piccolo, noi come Lega Nord, credo che bene o male... Vivete in piazza. ...quello lo facciamo, magari lo facciamo su temi che non tutti condividono, questo lo capisco, però non crediamo di sentire il distacco dalla gente e dalla piazza. Siamo a termine, grazie al consigliere provinciale di Trento della Lega Nord Maurizio Fugati, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. E ci rivediamo con un altro ospite, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti.